Eccoci qua, ben trovati, come ogni mese siamo a Logica Tel Ammoso Mano Terme, insieme a Francesco Ghelarducci e a Gioele Spinelli che ci presentano un telefono. Salve ragazzi, che telefono ci presentate, perché noi siamo ultra curiosi. Sì, vi presentiamo l'ultimo prodotto Huawei, che è il Huawei P20 Pro. Faccelo vedere, avvicinare la camera. Ecco, guardate che bello. È uno spettacolo, è bellissimo. Al di là della bellezza, la particolarità di questo strumento, che oggi si parla di dispositivi mobili, non più di telefoni. La cosa che mi ha colpito di più, da subito, è la fotocamera. Come mai? Che ha 40 più 20 megapixel, che è con tre fotocamere. Cioè, praticamente ti prende i brufoli. Ah, per tutto, guardate. Eccoci qua. Sono tre fotocamere. E poi davanti, comunque, anche per chi si vuole fare selfie, sai, oggi con i social è a 24 megapixel di... Eh, beh, quindi noi siamo in selfie diretta. In selfie diretta, verrebbe ancora meglio, eh? Eh, sì. Poi, comunque, anche un buon telefono a partire dalla memoria, perché ha 128 giga. Questo è il modello... È spandibile. Sì. E ha 6 giga di RAM, quindi... 6 giga di RAM, tanta roba. Tanta roba. Siamo sicuri, eh? Sì, sì. 6 giga, accertati, accertati. Sì, sì. 6 giga, accertati. Quindi, come tutti i telefoni in questo momento, hanno lo sblocco facciale, quindi basta adesso avvicinare il telefono davanti agli occhi che si sblocca. Scusa, ma non è un po' inquietante. Se mi faccio crescere la barba, cosa succede? Sì, sì. Si sblocca. C'è lo sblocco facciale, nei prodotti digitali. Sì, sì. Comunque, certamente è un telefono, è un poliziotto. Il poliziotto sa tutto di te. Sa tutto di te. Non è una cosa un po' pericolosa, a far sapertutto, un dispositivo mobile? Eh, beh... Siamo lanciati, siamo lanciati verso queste cose qui. Oggi giorno comunque siamo controllati un po' ovunque. Ma questo è una cosa scende. Certo, però il proprietario della tua immagine, della tua emotività diventa il dispositivo mobile, no? Sì, quello sì. Perché comunque, comunque, oggigiorno, qualunque cosa che fai, un messaggio, un post sui social, eh, comunque... È tutto tracciato. Eh sì, vabbè, a parte gli scherzi. È anche giusto così, anche per la nostra sicurezza. Sì, soprattutto. Soprattutto, sentite ragazzi, ma questo telefono, arriviamo alla situazione spicciola, quanto costa? Eh, questo telefono va, diciamo, va in base a un po' al mercato. Vieni più qua. Ora come ora, ora come ora ha un prezzo molto alto. Tipo? Si si gira su di 800 euro. 800 euro, quindi costa quanto? Ah, qui si trova a 720, però... Ah, ecco, ecco, ha fatto lo spot. Da logica della mosulmana a 720. Eh? Inoltre ne gradiamo siccome del pellicolino. Ha capito? Eh, 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 eh. Siete progetti. In caso di urto siete anche protetti. Sì. Certo, certo. Avete anche il negozio online voi. Soprattutto, anche lì lavoriamo online. Eh, ricordatelo un pochino. Sì, sì, ci potete trovare sia su Amazon... Che su eBay. Ebay. Su eBay? Logica a te. E se qualcuno vi volesse contattare... Anche su subito. Anche su subito. Anche su subito, specialmente sull'usato ci trovate anche su subito. Oh, e se qualcuno vi volesse contattare sulla vostra pagina social per chattare un po' con voi per sapere delle cose. Ovviamente su Facebook. Su Facebook, che è la pagina che si chiama Logica a te. Logica a te, il negozio telefonia. La trovate tranquillamente. Ci potete inviare un messaggio per qualsiasi consulto o qualsiasi cosa. Curiosità. Noi, noi spieghiamo subito. Bene, senti, facciamo. Siamo anche su Instagram. Questa è anche la presa qui è il nostro dietro. Oh, guardate, praticamente ci hanno dato tutto. L'ultima cosa, faccelo rivedere. Eccolo qui. Oh, che bello. Sarebbe un bel regalo. Per una comunione. Sì. Un po' troppo. Un po' troppo, però dai. Un po' troppo, a parte gli scherzi. Comunque, per un adolescente, diciamo, questi lanciati. Sì, sì. Comunque qui, anche questo è un telefono che comunque ci fai tutto. Ci puoi anche lavorare, infatti gli scherzi ci puoi anche lavorare, sicuramente ci saranno anche dei software all'interno. Sì, sì. Però, vedete, troverete già alcune applicazioni installate come c'è l'app Gallery Huawei, è un sito online dove potete trovare tutti i gadget Huawei ufficiali, quindi se vi si rompe magari il cavo d'alimentazione potete... Vedete già dove andare. Dove andare. Bene. Già applicazioni come Facebook, Instagram. Ottima l'assistenza. Altissime applicazioni installate, quindi un telefono perfetto. Perfetto. Ricordiamo la pagina social. Che è LogicaTel Negozio Telefonia. Ci trovare su Facebook. e magari un futuro anche su Instagram. Ci stiamo... Lavorando. Ci stiamo lavorando, dai. Bene, non rimane che mettersi 800 euro in tasca e venire qui da voi a Mosulmano a comprare il... Huawei P20 Pro. Bene, ragazzi. Ciao ciao, grazie per averci seguito. Ciao. Grazie. Alla prossima. Bye bye.